Un cordiale saluto da Alex Guarini di Trebimeteo. Nel corso di questo mercoledì, correnti più fresche in arrivo dal nord atlantico innescheranno un'ansa depressionaria sul nord Italia, dando luogo a una diffusa instabilità su gran parte del nord, responsabile di piogge sparse e temporali, in estensione fin verso Toscana, Umbria e Alte Marche. Diamo uno sguardo anche al dettaglio relativo alla nuvolosità, che evidenzia appunto un aumento delle nuvi a partire dal pomeriggio su gran parte dei settori alpini e prealpini, in estensione poi anche alle pianure. Notate invece questi addensamenti in transito al centro-sud, questi saranno di scarsa consistenza, prevalente carattere stratiforme. Vediamo quindi il dettaglio previsionale per tutta la penisola, cielo irregolarmente nuvoloso al centro-nord, con piogge sparse e temporali, alternati a delle pause più asciutte, prevalenza di bel tempo invece al centro-sud, con temperature insensibile aumento al meridione, sul quale si toccheranno anche punte, fino a 38-40 gradi, valori in calo a tratti anche deciso al nord nella seconda parte della giornata.